Allora abbiamo tenuto questa audizione con la Commissione Antimafia, che voglio dire ringrazio per la presenza in questa provincia perché sicuramente è un segno di attenzione e di vicinanza per la Calabria e per la provincia di Crotone. C'è stata un'audizione con tutto il comitato, quindi io ho presentato una relazione alla Commissione Antimafia e si è discusso di questa relazione innanzitutto che contiene non solo i dati ovviamente della criminalità organizzata in provincia ma anche della criminalità comune. Nell'occasione erano anche presenti le forze di polizia, i vertici provinciali delle forze di polizia ma ha preso parte anche l'ex questore di Crotone, il questore Gambino che da una settimana è a Taranto e il vice dirigente della DIA e ciascuno di loro ha riferito di quelle che sono state le più importanti operazioni che ci sono state fra il 2020 e il 2021. Altrettanto ha fatto la DIA perché ricorderete che la DIA si è occupata in questa provincia dell'operazione Basso Profilo che proprio ieri è andata a sentenza, quindi hanno riferito anche di questi dati e poi ci sono state una serie di richieste da parte dei singoli componenti della Commissione Antimafia delle vicende più significative che hanno riguardato questa provincia. Qual è il dato più preoccupante? Il dato preoccupante allora, io partirei dalla criminalità comune nel senso che per fortuna c'è una diminuzione, sicuramente i dati interforze sono presi al 25 ottobre, quindi diciamo l'anno non è finito purtroppo, però c'è una sensibile diminuzione dei dati, seppure permangono fenomeni quali quelli di danneggiamenti, danneggiamento a seguito di incendio, atti nei confronti degli amministratori, degli enti locali, e però spesso, direi quasi sempre, questi danneggiamenti, insomma, comunque non sono riconducibili alla criminalità organizzata, ma piuttosto alla criminalità comune, spesso a dissidi privati e talvolta anche, siamo nel 2021, ma anche a motivi passionali, quindi sono questi i dati. Per quanto riguarda la criminalità organizzata, ci sono state, come è noto a tutti, delle importanti operazioni in questa provincia, che hanno, diciamo, notevolmente, per fortuna, messo in difficoltà l'operatività delle cosche che sono presenti in provincia, diciamo, sicuramente sono state smantellate nella loro organizzazione, almeno in quella originaria, quindi questo è stato riferito alla Commissione Antimafia, che poi ha voluto una serie di notizie, molte di queste sono state, ovviamente, secretate anche dalla stessa Commissione, ma c'è sicuramente un grande interesse per la realtà crotonese, per la provincia, per il capoluogo e per tutta la provincia. Ma vi credo che comunque è morto e controllato, o no? Assolutamente, poi basti pensare alla presenza numerosa delle forze dell'ordine, per come è cresciuta, per esempio, anche la questura di Crotone, come uomini, come personale presente in questura, per il numero sempre importante anche di uomini che vengono per i servizi di ordine pubblico assegnati a Crotone, vuoi per la partita, vuoi per le esigenze più complicate, come quelle per il Cara, ma la presenza è sempre importante e sempre significativa. Ovviamente, così come capillare la presenza, per esempio, dell'Arma dei Carabinieri, che ha 21 presidi su 27 comuni, quindi c'è questa presenza capillare e quasi in tutto il territorio della provincia dell'Arma dei Carabinieri, così come si è rafforzata anche la finanza che fra l'altro ha fatto, come sapete tutti, anche delle operazioni, compresa quella che si è conclusa ieri mattina, particolarmente importanti. Grazie.